... ... ... ... ... ... ... ... Willard, grazie per avermi assegnato la parte meno utile e più idiota del mondo! Mai una volta che mi ritrovi nel ruolo di protagonista vestito da ninja o robe simili! Siete solo uno spreco di cellula! Sono sicuro che vi farete perdonare, ma... ...serviranno litri e litri di sangue! Vostro, ovviamente! Ho l'impressione che la star della serata sia diventata ancora più luminosa! ... ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 a tutti.